La potente preghiera a San Giuseppe per la protezione delle famiglie Non trascuriamo di affidare i nostri affetti più cari sotto la potente custodia del Padre Il reputativo di Gesù, patrono della Chiesa e protettore della famiglia per eccellenza Innalziamo dunque con fiducia a San Giuseppe questa particolare orazione Perché vegli sulle nostre famiglie, oggi così attaccate Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Glorioso San Giuseppe, protettore, modello e guida delle famiglie cristiane Ti prego di proteggere la mia famiglia Fai regnare in lei lo spirito di fede e di religione La fedeltà ai comandamenti di Dio e della Chiesa La pace e l'unione dei figli Il distacco dei beni materiali e l'amore per gli affari del cielo Degnati di vegliare su tutti i nostri interessi Prega il Signore perché benedica la nostra casa Garantisca la pace alle famiglie, il successo ai figli Concedi a tutti i membri della nostra famiglia e di tutte le famiglie sulla terra La grazia di vivere e morire nell'amore di Gesù e Maria Dai mali che ci minacciano libera la nostra famiglia Dalla discordia e dall'attrito libera le nostre famiglie Dalle malattie e dalle afflizioni libera le nostre famiglie Dalla tristezza e dalla disperazione libera le nostre famiglie Dallo spirito mondano libera le nostre famiglie Dai pericoli dei falsi valori di oggi libera le nostre famiglie Dall'assenza e dall'abbandono dei genitori libera le nostre famiglie Dall'immoralità coniugale libera le nostre famiglie Dalle mode e dai costumi scandalosi libera le nostre famiglie Dall'indifferenza e dalla ribellione religiosa libera le nostre famiglie Dalla leggerezza e dalla disonestà libera le nostre famiglie Dalle amicizie cattive e pericolose libera le nostre famiglie Dalle mancanze di amore libera le nostre famiglie Dalle incomprensioni e mancanze di dialogo libera le nostre famiglie Dalla disunione e dalla separazione libera le nostre famiglie Dagli aborti e dall'abbandono libera le nostre famiglie Dalla mancanza di fede libera le nostre famiglie Dalle difficoltà finanziarie salva le nostre famiglie Dalla mancanza di pane e di casa libera le nostre famiglie Dalla malattia e dalla sfortuna libera le nostre famiglie Dalla morte eterna libera le nostre famiglie San Giuseppe prega per noi in modo che possiamo essere degni Di raggiungere le promesse di nostro Signore Gesù Cristo Dio di bontà e misericordia Per l'intercessione di San Giuseppe Salva le nostre famiglie Falle vivere unite e salde nell'amore Così come li univi nella vita mediante il sangue La tua bontà li unisce con la carità nel regno eterno Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli Amen Che Dio ci benedica Faccia risplendere il suo volto su di noi E ci dia la pace Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Amen Réalomeno Réalomeno Allo Aus